Allora quel posto c'è il pro cuore di varie, ho fatto tutti si Allora la nuova è, non sa, un mercoledì è Ho peccato quel sangue e quel mercoledì non c'è Poi che stavano già Sto bene, stai adesso Ah, non è bello Sto nel patel Non è fatta il mio C'è un coso, eh, lì lo che erano le una era indurmentata come erano le due lì sotto al su della parola non sono io potete andare a tirare la coda che... e poi erano i tre scimpanzé avevano i figli di attaccare i pomodori c'erano lì apporto i pomodori per portargli dentro no? avevano i pomodori avevano i pomodori avevano i pomodori ma su serio eh? perdono l'ho preso l'ho preso con la mano ma è sempre quella delle patine avevano il tempo a scurtar grazie